ciao a tutti bentornati sul canale allora mi è arrivato con un po di ritardo il nuovo pacco di ascetto che contiene ben quattro numeri della batmobile allora li apro un attimo eccoli qui allora abbiamo i numeri 89 poi ci sono i numeri 10 e 11 allora diciamo che come da tradizione ormai sul canale nel primo video analizziamo i fascicoli e poi nel video di domani andremo a montare fisicamente questa roba a maggior ragione in un montaggio complesso come questo della tumblr batmobile ci dedicheremo con molta attenzione alla lettura dei fascicoli perché appunto non vogliamo sorprese durante il montaggio non so se avete seguito ad esempio il montaggio della 500 di qualche giorno fa e come avete visto qualche problema c'è stato non tanto proprio di difficoltà ma comprensione delle istruzioni barra applicazione pratica proprio sui pezzi perché certe volte non sono proprio né precisi al 100% né le istruzioni sono di facile comprensione quindi è importante leggere bene e capire i fascicoli allora iniziamo dal numero 8 andiamo a vedere apriamo un secondo la scatolina giusto per vedere cosa c'è dentro e quanti pezzi sono ok questo mi fa capire che è un montaggio speculare a quello dell'altra volta perché dobbiamo fare diciamo l'altro lato quindi andiamo a vedere un attimo nelle istruzioni se ho ragione perché certe volte sapete ci danno dei pezzi poi ci rifanno montare più avanti ma in teoria non dovrebbe essere così allora vediamo cosa dobbiamo fare in questo numero 8 ammesso che io trovi la parte ok allora come vedete qua i pezzi sono parecchi abbiamo il montaggio passo a passo la sospensione anteriore e il freno a disco di sinistra quindi questa parte se vi ricordate l'abbiamo già fatta in precedenza e quindi teoricamente dovrebbe essere semplice ricostruire questa parte quindi diciamo allora ok questo passaggio è piuttosto chiaro che andiamo a fare il freno a disco si monta su questa parte poi si installa il gruppo dei dischi sul perno della ruota 88 qui mettiamo la pinza ok si arriva a prendere il gruppo del perno ruota 88 posizionatelo dentro il fusello come vedete ok questo mi sembra piuttosto chiaro per fissare il tutto verificate che il perno della ruota sia libero di muoversi e poi qua con una vite abm che poi vedremo bene qual è fissate il rinvio 8 j all'estremità dell'asta dello sterzo 8 h e quindi si arriva a costruire questa sezione qua quindi diciamo che abbiamo un unico blocco che viene completamente costruito in questo numero proseguiamo con il numero 9 andiamo a vedere prima di vedere il fascicolo andiamo a vedere cosa c'è qua dentro sempre bella pesante quindi ah qui ci sono dei pezzi della ruota quindi ok questo è piuttosto semplice vedrete che questo numero allora io qua intanto mi ci vado a scrivere un bel 9 così non mi perdo i pezzi che poi una volta che sono aperti fuori dai fascicoli si possono confondere non voglio perdere tempo allora qui in teoria allora il cerchione esterno e quello interno del secondo pneumatico anteriore quindi secondo me qua c'è da fare ben poco ok poi ci danno questo pezzettino qua che dobbiamo mettere qua nel blocco di che abbiamo costruito nel numero 8 e si arriva diciamo a questa soluzione questo pezzo completo certo questo pezzetto potevano darcelo anche prima ma in generale diciamo che per adesso non mi sembra che ci siano sorprese quindi in teoria nel numero 10 ci dovrebbe essere la ruota o infatti a me questa ruota mi dà una soddisfazione incredibile perché veramente massiccia cioè non riesco neanche a piegarla per quanto è dura poi dentro ci sono le viti sue quindi diciamo che qua ci scriviamo un bel 10 eccolo qua e andiamo a vedere le fasi di montaggio quindi in teoria ci faranno montare la ruota per cui secondo me sarà piuttosto veloce anche questa parte vediamo un po ok quindi la seconda ruota anteriore del modello con dado e rondella quindi sicuramente ci faranno unire ecco infatti ci faranno unire i pezzi che ci hanno dato nel numero 9 ci andiamo a montare dentro tutto il gruppo sospensione sinistra che abbiamo fatto poco fa e quindi dovremmo completare esatto ecco qui ci fanno completare tutto il pezzo della ruota diciamo ecco quindi come si presenta la sospensione anteriore di sinistra completa di ruota ultimo numero di questa spedizione ovvero il numero 11 andiamo a vedere cosa c'è qui mi piace molto questo modo di confezionare le cose perché i pezzi così non si rovinano e vengono consegnati decisamente bene allora io li lascio chiusi nella speranza che non manchi nulla ovviamente questo lo scopriremo durante le fasi di montaggio ma innanzitutto andiamo a vedere cosa dobbiamo fare in questo numero 11 allora gli steli dell'ammortizzatore e la barra dello sterzo del lato sinistro quindi riceviamo diversi pezzi e pezzetti che teoricamente dovrebbero andare a completare tutta la struttura che abbiamo già fatto per la parte destra quindi qui secondo me ci sarà un po da perderci tempo non perché è difficile ma perché sono tanti passaggi come vedete sicuramente richiederà almeno una mezz'ora buona per capire diciamo tutti questi passaggi e alla fine si arriverà ad avere questo blocco qui ovvero la paratia frontale con anche il gruppo sospensione di sinistra correttamente assemblato mentre nella prossima uscita nel numero 12 riceveremo cruscotto e pannelli allora partiamo dal presupposto che nessuno di questi montaggi è mai facile dove per facile intendo un montaggio che può eseguire chiunque anche mentre fa altre cose tipo un lego anche se ci sono dei lego complessi ma parlo in generale diciamo che qui secondo me ci troviamo di fronte ad un montaggio di livello superiore perché è vero che questa fase specifica è piuttosto facile mi sembra che a parte il numero 11 che è un po più lunghetto gli altri tre sono relativamente semplici ma andando avanti su un modello così grande sicuramente ci saranno delle difficoltà che non possiamo nemmeno calcolare quindi dobbiamo impegnarci ad essere più puliti possibile nel montaggio e soprattutto quello che bisogna fare è munirsi di un organizer per tenere da parte tutte quelle parti che non utilizziamo di volta in volta oppure possiamo comunque conservare dei pezzetti o delle cose doppie tipo se avanza una vite o se abbiamo un dubbio su un pezzo lo teniamo da parte perché magari ci può tornare utile in seguito altra cosa fondamentale che ormai sul canale avete visto sempre è l'utilizzo dell'olio mi raccomando comprate una qualsiasi boccetta di olio svitol o insomma un qualsiasi olio per bicicletta fondamentalmente perché vi svolta la vita e sembra una cosa stupida ma una vite spezzata all'interno di una parte di metallo significa che dovete buttare tutto nel 90% dei casi a meno che non siete in grado di rifare una filettatura con il trapano ma io ad esempio non saprei farlo o meglio non è che non lo so fare ma non avrei gli attrezzi per farlo per cui vi consiglio caldamente di munirvi di olio e soprattutto anche di attrezzi buoni perché certe volte il cacciavitino che ci danno in queste opere è un palliativo nel senso non è che si può pretendere di fare una roba del genere con un cacciavitino che forse vale 50 centesimi quindi un buon investimento per chi fa opere di questo prezzo perché di base parliamo di roba di più di 1000 euro direi che ne vale la pena spendere 10 15 20 euro insomma per comprare un buon set di cacciaviti professionali ovviamente se volete vi lascio il link in descrizione detto ciò a questo punto vi chiedo il solito pollice in su se vi è piaciuto il video e vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanellina così da non perdere nessuno dei miei prossimi video ora vi saluto e ci vediamo molto presto nei prossimi giorni ciao